Eccoci con voi, siamo all'ospite di oggi, che saluto immediatamente, Clio Krascovice. Buongiorno signora. Buongiorno. La rappresentante, mi corregga se sbaglio, come la Presidenta, Ministratore Delegato. No, no, mi occupo della comunicazione. Si occupa della comunicazione di Mare FVG. Ecco, per chi ci sta guardando da casa, dobbiamo dire intanto che cos'è Mare FVG. Sì, Mare FVG è un consorzio che raccoglie enti di ricerca, enti di formazione, aziende, realtà che a 360 gradi si occupano di tecnologie marittime nel territorio regionale. È il punto di riferimento per il settore delle tecnologie marittime nel Friuli Venezia Giulia. Ecco, voi state cercando di far dialogare chi e che cosa? Noi facciamo dialogare tutte le realtà che appunto si occupano di questo settore, non solo tra di loro, ma anche con altre realtà a noi analoghe. Ecco, senta, Mare FVG nasce quando? È nato come un'associazione nel 2009, poi ha avuto un'evoluzione e diciamo che nel 2012 è stato riconosciuto dal MIUR come un cluster tecnologico. Ecco, quindi la formazione prima di tutto? La formazione sicuramente diveste una parte molto fondamentale nella nostra attività. Sono due anni che siamo impegnati con un progetto che si chiama Navigando, che portiamo all'interno delle scuole, dalle primarie alle secondarie di secondo grado, con l'obiettivo di orientare gli studenti sin dall'inizio verso le professioni del mare, in un territorio come il nostro che offre veramente molto in questo settore. Sì, da Mare FVG dove siete? A Seria Monfalcone. Quindi, voglio dire, località che sappiamo molto vicina a tutto quello che è la nautica. Lei diceva appunto di stimolare le nuove generazioni di questo tipo di professioni, ci sono spazi? Assolutamente, il settore dà molte possibilità. Ho capito. Ecco, allora intanto parliamo un po' in maniera un po' più approfondita di che cosa è Navigando. Navigando è un programma che è strutturato in tre attività. La prima, che si rivolge alle scuole primarie, si chiama Ribaltamento, la sicurezza è un gioco di pesi. In maniera molto simpatica spieghiamo ai ragazzini che cosa sono le navi, che ruolo hanno nella nostra vita di tutti i giorni, gli forniamo un po' di nomenclatura, funzioni di base e soprattutto poi li facciamo giocare con un kit di costruzione che è stato progettato dall'Istituto di Ingegneria del Mare del CNR. I bambini in questo modo hanno modo di giocare, appunto, ma anche di imparare alcuni concetti fondamentali che sono legati con il mondo nautico, che sono appunto il concetto della stabilità, il concetto del ribaltamento, viene spiegato loro che cos'è il principio di Archimede, per cui in un'attività che dura due ore, che viene svolta direttamente nelle scuole, iniziano già ad apprendere degli elementi di base. Nelle scuole secondarie, invece, di primo grado, l'attività è più prolungata nel tempo perché facciamo entrare in contatto gli studenti con la progettazione di uno scafo. devono realmente realizzare un modellino a partire proprio dalla fase di progettazione, devono definire quale prua e quale poppa dare all'imbarcazione che vogliono realizzare, la devono costruire, levigare, la devono ottimizzare per poi essere impegnati in una gara finale all'interno di un canale di circolazione che facciamo venire da Roma per testare in acqua l'efficienza del modellino che hanno realizzato. È un'attività, come tutte poi tra l'altro, che non ha alcun costo per le scuole, per cui noi diciamo che forniamo completamente tutto il materiale e stimola moltissimo la creatività, il lavoro di gruppo, ma anche e soprattutto la manualità che si è molto persa obiettivamente nelle scuole negli ultimi anni. Per quanto riguarda invece le scuole secondarie di secondo grado, l'attività si chiama Let's Go Underwater ed è incentrata sulla robotica sottomarina. Attraverso il dispositivo che abbiamo fatto venire direttamente dall'MIT di Boston, il Sea Perch, gli studenti devono costruire un drone sottomarino telecomandato. In questo modo hanno modo di entrare in contatto con diversi elementi della progettazione navale, in questo caso più legati appunto alla robotica sottomarina. Ecco, senta negli appunti che ci avete inviato, gennaio-marzo 2020, quindi questo è il timing per... In questo momento noi abbiamo appena concluso le attività perché seguono l'anno scolastico e stiamo raccogliendo le adesioni per il prossimo anno scolastico che appunto inizieranno indicativamente tra ottobre e novembre. Ogni attività ha la sua durata, Let's Go Underwater è più prolungata nel tempo perché appunto la costruzione del drone sottomarino richiede naturalmente un po' di tempo. Entro il 30 giugno è possibile inviare la scheda di adesione per aderire a questa attività. Tutte le informazioni sono presenti nel nostro sito che è www.marefvg.it Sono attività che ripeto sono assolutamente gratuite per tutte le scuole del territorio della regione Friuli Venezia Giulia per cui siamo veramente molto focalizzati a continuare a fornire questo servizio. C'è anche una mail comunicazione chiocciolamarefvg.it dove le adesioni possono essere inviate. Lei parlava prima di adesioni, l'anno scorso quante sono state? L'anno scorso sono state parecchie soprattutto se vengono paragonate con l'anno precedente che è stato l'anno in cui il progetto Navigando è partito. Abbiamo avuto quasi 1300 studenti da oltre 60 scuole di tutto il territorio regionale che rispetto alle 28 classi e circa 500 studenti dell'anno precedente è veramente una grande crescita e speriamo di continuare in questo senso. Senta, chi è che risponde con più trasporto? Gli studenti devo ammettere che sono molto coinvolti in questi progetti soprattutto perché hanno modo di lavorare in gruppo hanno modo di giocare tra di loro e hanno modo di sviluppare delle competenze che altrimenti non avrebbero modo di portare avanti. Ecco, Mare FVG a sede a Monfalcone sappiamo tutti che c'è qualcosa che si chiama Fincantieri e con le prospettive di occupazione per questi ragazzi e soprattutto dove potrebbero lavorare, in che settore? Loro veramente nel settore marittimo hanno moltissime potenzialità. Questo è proprio il motivo per il quale noi cerchiamo di stimolarli fin da subito per cercare di stimolare la loro curiosità e soprattutto fare in modo che in un futuro possano intraprendere una carriera universitaria legata alle professioni nel mare perché veramente in questo settore c'è molto nel Friuli Venezia Giulia. Senta, questa è una modalità per trattenere le eccellenze dalle nostre parti visto che si dice sempre che... Che scappano? Eh. Se vogliamo è anche un modo per formare in sede ma poi appunto anche trattenere. Noi abbiamo parlato di chi forma, scusi, di chi viene formato ma chi sono gli insegnanti, i docenti, coloro che formano? Sono comunque personale, è personale estremamente formato e curioso tant'è che le richieste di adesione che noi abbiamo alle nostre attività provengono non solo ed esclusivamente da istituti tecnici come era anche immaginabile che fosse ma anche da licei per cui... Questo cosa vuol dire secondo lei? Questo vuol dire che secondo me c'è molta curiosità e c'è molta attenzione verso il futuro. Ecco adesso chiedo alla regia di Tiziano Campigotto commentiamola assieme, qui appunto sono i lavori a cui faceva riferimento. Questi sono, esatto, alcuni dei modellini che i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado hanno realizzato quest'anno e sono delle immagini della competizione finale che si è svolta a Monfalcone nell'ambito del festival Scienze Under 18 è stata fatta venire da Roma una vasca navale all'interno della quale appunto i modellini sono stati testati in acqua in diverse velocità ed è stato decretato diciamo il modello più efficiente all'interno della classe. Ho capito, mi sta a dire chi è che apre Valcia? Ogni classe diciamo ha avuto un vincitore ma è stata una cosa riferita alla classe. Ho capito, quindi vanno bene le lezioni teoriche ma i ragazzi vogliono toccare con mano Assolutamente sì. la teoria. Quindi allora ricordiamo ancora una volta, ecco qui lei proprio aveva segnalato 1250 studenti e 96, no scusi, 66 classi. Praticamente è raddoppiato, più che raddoppiato. È più che raddoppiato sì, rispetto all'ingresso diciamo nel panorama dell'attività formativa l'attività di navigando hanno riscosso notevole interesse. Questo sarà l'anno numero? Questo sarà il terzo. Terzo. E Mare FWG nasce quando? Mare FWG è nato nel 2009. Sono due anni che siamo fortemente impegnati nelle attività di formazione e il nostro intento è quello di andare avanti in questo senso. Ecco, avete sede a Monfalcone, vi rivolgete alla comunità del Friuli Venezia Giulia. L'intenzione è quella di sbarcare su altri territori o...? Le contaminazioni con altri territori, con altre nazioni anche a livello europeo, naturalmente sono presenti. Per le attività formative in questo momento ci stiamo concentrando però sul territorio regionale. E si dialoga anche col mondo esterno o rimanete...? Il dialogo è sempre presente e costante. Con chi state dialogando? Con che altre realtà? Abbiamo numerose realtà, noi affini, che sono presenti nel territorio europeo, abbiamo una collaborazione attiva con il cluster croato, con quello bulgaro, il nostro cluster poi fa parte delle realtà a noi simili nel territorio nazionale, per cui il dialogo è costante e cerchiamo sempre appunto di favorire la circolazione delle idee. Che cosa vuol dire essere cluster oggi? Cluster vuol dire fare gruppo, cluster vuol dire essere multiformi, vuol dire darsi da fare su più fronti, vuol dire essere molto attivi. Allora ricordiamo, abbiamo ancora un minutino per chi ci sta guardando in questo momento, come fare ad avvicinarsi a questo progetto? Sì, le scuole che sono interessate ad aderire alle attività di navigando per l'anno scolastico 2019-2020 possono inviare la scheda di adesione entro il 30 giugno all'indirizzo comunicazione chiocciola marefvg.it. Se sono interessati ad avere maggiori informazioni sulle attività, li rimando al nostro sito che è www.marefvg.it dove trovano appunto una descrizione molto dettagliata. Clio, per ogni ordine grado, no? Delle scuole. Per ogni ordine grado, esatto. Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Quindi, memorizzate, azienda mare, ma soprattutto il progetto navigando. Grazie a Clio Kranskovic, l'abbiamo fatta alzare di buon mattino, ma credo che sia valsa la pena proprio per sostenere, promuovere e illustrare il progetto navigando. Buona giornata. Buona giornata a lei. E noi adesso ci fermiamo, ancora un po' di pubblicità e poi rassegna stampa. Grazie.